Allora, nuovo appuntamento con Orizzonte Fano in attesa del 4 di marzo, quando ci sarà a Fano questo importante appuntamento con il Foro Urbano e le idee sul campo per questa Fano del 2030, così almeno andiamo molto in là. È tornato a trovarci l'assessore Marco Paolini, con il quale questa sera parleremo di dati economici e di imprese fanesi. Allora, buonasera, assessore, ben ritrovato. Dunque, perché sono importanti i dati sulle imprese presenti nel territorio di Fano? Ma intanto questi dati hanno molti aspetti interessanti per questo punto di vista. Intanto il dimensionamento della futura variante generale al piano, che deve tener conto delle dinamiche dei diversi settori dell'economia per valutare le necessità di spazi e quanto altro, ed edifici. Dall'altro, per tutte le problematiche sociali connesse alla trasformazione di una società. Quindi anche questo è una messe di risultati che si porta al piano strategico, alle valutazioni sul piano strategico. Come si presenta la situazione economica a Fanese? Dinamica. La situazione sicuramente è stata dinamica in questi ultimi decenni, perché abbiamo trovato una città che dal 2000 al 2010, in base ai dati elaborati dall'Università d'Urbino, ha dimostrato, ha mostrato una crescita prorompente, molto più forte che i territori vicini e dal 2000 al 2010 siamo cresciuti del 15%. Poi con gli anni della crisi abbiamo avuto un arretramento profondo, importante sui numeri delle imprese, invertendo la tendenza e calando nei numeri molto più delle città vicine a Pesaro e Senigallia. Siamo calati del 3%. Sempre parlando di aziende, qual è stata la crescita e la decrescita nel dettaglio? Beh, intanto abbiamo visto sofferenze nel settore del primario, dell'economia primaria, pesca e ricoltura, che sono sofferenze e cali probabilmente legati a elementi generali, non tanto legati a questo territorio, ma proprio elementi generali nel nostro Stato e nella nostra regione. Abbiamo avuto poi una crisi del secondario, l'industria e le costruzioni, che è stata evidente per tutti, soprattutto dal 2008 in poi, e abbiamo avuto invece un primo aumento di recupero nel terziario che riguarda ristorazione e turismo, a cui è seguita negli ultimissimi anni poi una stasi, e invece una crescita costante di un'altra forma di terziario, un terziario di servizi, di studi professionali, di studi medici, che sta rafforzando. Quindi c'è un settore che tiene più di alto, si sta rafforzando. I dati relativi agli altri settori diminuiscono le imprese, appunto, come diceva, nel settore primario e secondario? Questo sì, purtroppo pesca e ricoltura hanno avuto... E quelli che subiscono un maggior... Però, ecco, diciamo proprio nell'ultimo periodo hanno avuto una resistenza maggiore che a pesaro e senigali. Ecco, la riflessione, a chiusura di questo appuntamento, la riflessione in base ai dati che abbiamo visto su questo... Ma sì, Fano mostra questo territorio molto più dinamico di quelli vicini dal punto di vista del numero di imprese, quindi c'è una vivacità e quindi anche una speranza di ripresa consistente. Tuttavia queste tendenze vanno rafforzate per i settori che tirano e vanno studiate con attenzione e calibrate per i settori che hanno avuto più sofferenza. E quindi questo sarà sicuramente una riflessione che dovrà proseguire a partire dal 4 marzo dall'Ost. Ecco, abbiamo visto questi dati anche con l'aiuto della grafica, dati dell'Università di Urbino relativi al periodo compreso tra il 91 e il 2015. Allora, la prima occasione per condividere queste idee, i progetti per dare una mano a crescere alla città di Fano è quella dell'Ost Foro Urbano che si terrà sabato 4 marzo dalle 9 alle 13 nella ex chiesa di Santa Maria Dendi di Sant'Arcangelo a seguire poi alla Mediateca Montanari. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 28 di febbraio sul sito internet orizzontefano.it oppure andando all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che si trova in piazza 20 settembre oppure potete cercare le informazioni sui social network, in particolare su Facebook cercate Orizzonte Fano. Grazie all'assessore Marco Paolini, grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima. Grazie all'assessore Marco Paolini